Siamo con Favero, portiere dell'Accademia. Oggi tante parate che non sono servite ad evitare questo K.O. Non sono servite, ma la squadra ha giocato un ottimo calcio a 5. Nel secondo tempo siamo entrati leggermente sotto tono, ma anche questo fa esperienza e sappiamo che abbiamo grandi qualità e le useremo per il futuro. Forse era troppo difficile venire a fare punti qui dalla prima della classe? Con il mister ne abbiamo parlato in settimana, volevamo fare punti qui, sappiamo che possiamo giocarcela con tutti, però qualitativamente sono stati, quest'oggi, superiori. Siamo con Capocrossi, capitano del Real Stella. Oggi tre punti per confermare la leadership. Sì, volevamo assolutamente tre punti per chiudere comunque sia l'anno nella nostra striscia positiva. Abbiamo ottenuto la vittoria, abbiamo fatto una grande partita e speriamo nel giorno del ritorno di riconfermarci di nuovo. Appunto i punti conquistati in casa comunque sono stati anche la vostra roccaforte della classifica, diciamo. Sì, diciamo che comunque sia in casa nostra vogliamo assolutamente vincere, vogliamo comandare noi, diciamo. Del resto speriamo bene.